Si avvia alla conclusione il Salone Provinciale del Mobile, visitabile fino al 16 settembre nell'area Salerno Fiere della zona industriale del capoluogo. Numerosi gli appuntamenti previsti per il weekend conclusivo della manifestazione, fra cui il concerto del cantautore Davide De Marinis. Siamo al sesto giorno di questa splendida manifestazione, sono tanti quest'anno i contenuti presentati dal Salone Provinciale del Mobile, tante le aziende che hanno presentato e tante soprattutto le presenze, viste che abbiamo avuto questo weekend un afflusso spaventoso di persone. Faccio l'appello a chi ancora non è venuto a venire a vedere quelle che sono le novità, perché veramente quest'anno conviene rendersi conto come l'azienda si muove nel campo dell'arretamento. Ancora tre giorni, quindi, come dicevi, venerdì 14 abbiamo una splendida serata dedicata ai bambini, con il mago Paolo, bravissimo illusionista, il parlaggio dei bambini dove avremo palloncini, avremo dei gadget che daremo ai bambini. Sabato 15 avremo il concerto dopo il grosso successo, devo dire la vera della splendida Monica Sarnelli, peccato per chi non è venuto, di fatti molti mi hanno fermato dicendo che erano rimasti entusiasti dal concerto di Monica. Avremo un altro big della vecchia scuola cantautore milanese, il bravo Davide De Marinis, che è presente in una cover di Lucio Battisti, con i suoi ultimi brani, anche quello bocciato a Sanremo, Morandi Morandi. Quindi in realtà avremo anche un aspetto goiardico questo weekend e poi domenica giudiamo con l'estrazione di questo splendido weekend per tutti coloro che sono venuti all'accoglienza e hanno compilato il coupon per partecipare all'estrazione di questo splendido weekend. Io sono soddisfattissimo di quello che in realtà è stato il Salone qui a Salerno, siamo alla quinta edizione, poi faremo ringraziamenti alle istituzioni, al Comune, alla Confocommercio, alla Camera di Commercio che sono stati vicini all'evento, a tutti coloro che in realtà hanno voluto, e soprattutto agli espositori e alle aziende che hanno creduto nel Salone. Speriamo che il prossimo anno, i prossimi anni, perché l'avvento è biennale, avremo la possibilità di aggregare molte e più aziende, di fatti quelli che sono stati in questa settimana, anche i titolari d'azienda, hanno dato la loro adesione per la prossima edizione. Quindi non mi resta altro che augurarvi un buon Salone del Mobile, aspettandovi in questo lungo weekend, e vi ricordo che l'ingresso è gratuito, il parcheggio è gratuito, il caffè lo offro io, quindi vi aspetto.